Io faccio solo dai. La Raffagni, la Raffagni e io siamo quelli più seguiti. Mauro e il suo accompagnatore sono appena giunti nell'hotel dove il casting avrebbe avuto luogo. Per raggiungere la sala d'attesa scendemmo due rampe di scale che avremmo risalite certo non senza fatica viste le condizioni di Mauro. Dentro la stanza molto grande ci saranno state all'incirca 50 persone e in fondo una lunga scrivania presiduta dai signori della produzione, i quali davano l'impressione di svolgere più mansioni di quante avrebbero potute seguirne compiutamente. Presi coraggio, varcai la porta d'accesso per fortuna lontana dal tavolone e coperto da lieve trambusto tipico dei posti affollati mi sedetti in disparte sulla prima poltrona disponibile. La cosa non mi dispiaceva affatto in quanto l'unica sensazione che da minuti ero in grado di percepire era l'imbarazzo, Mauro, dal quale nel frattempo mi ero separato, iniziò a compilare i moduli e io, diverse file indietro, per salvarmi dal cupio di solvi che viceversa mi avrebbe fagocitato, provai a scattare qualche foto, cercando, si intende, di non dare nell'occhio. Passati dieci minuti mi alzai dalla poltroncina per raggiungere Mauro, ancora seduto tra le prime file. Fu allora che un capò della produzione mi vide e mi chiese se avessi già espedito la modulistica. Colto in flagranza di spostamento non autorizzato, gli risposi di no e per questo veni cacciato dalla stanza. Gli accompagnatori non possono accedere! Ma io fino a quel momento ero riuscito a sopravvivere ai controlli, nonostante avessi vent'anni di meno rispetto al più giovane tra i pretendenti. Da questo momento in poi, caro lettore, su quanto accadde là dentro ne so quanto te. Beninteso, provai a resistere, prima pollaiandomi nel corridoio finittimo, poi accampandomi nella hall dell'hotel, ma gli scherani di Fininvest avevano iniziato a talonarmi e mi costrinsero alla resa incondizionata. Le disposizioni sono che gli accompagnatori aspettano fuori. E io, o seguente, attesi per circa un'ora. Appena usciti dal casting, le dichiarazioni a caldo. Posso andare? Vai, vai, vai. Allora, mi chiedono il colloquio, danno la voce a una ragazza, una signora, poi dico la registrazione, alt, registrazione. Quale registrazione? Io faccio solo live. Io sono già perso 4 volte in tv, ma solo live. I miei video sono live senza interruzione, senza pausa. Trasparente, io sono trasparente. Non voglio che venga alterato, modificato quello che dico io. Perché se dico A, di risultare A, non B, C o E. A fare, sì, sì, sono contralissimo. Si può provare, perché può anche darci che magari mi piaccia. Si può provare, fare un esperimento, fin da carità. Ma io, cioè, non è che non sono conosciuto. Come youtuber sono uno dei più piccati, non il più piccato, ovviamente. Ti piace prima la Zaffagni? La Raffagni, la Raffagni, e io siamo quelli più seguiti. E abbiamo, cioè, io ho un bel numero di visualizzazioni. Ovviamente, la Raffagni ne ha di più, è più popolare di me, col fatto che era la moglie di Fede, insomma. Però io nel mio piccolo sono molto conosciuto, certo. Vabbè, quindi è andato bene il... Io ho cominciato a prendere in mano la parola io, e quello che mi faceva l'intervista è rimasto un po'... Ho detto, questo cacchio, ha pensato, ma mi ha mandato via, subito, perché ha visto che... Lo quace. Sì, io in poche parole ho sintetizzato il tutto, e sono andato ad obiettivo subito. Gli ho detto quello che pensavo, quello che mi è capitato, quelle poche domande che mi ha fatto, e quindi in poche parole io ho abbreviato, e ho dato una sintesi della mia biografia, della mia vita. E secondo me, avrà pensato, secondo me, poi non lo so, magari mi sbaglio, che ho dei numeri da poter andare in tv. A questo punto l'autore della lettera fa una lunga digressione, spiegando le ragioni che lo hanno portato ad interrompere così bruscamente la registrazione. Noi però le ometteremo, passando immediatamente alle sue considerazioni circa le parole che Mauro ha appena detto. Ero convinto che sarebbe andato tutto bene, e che certo un personaggio come Mauro, quelli di Mediaset non se lo sarebbero lasciati scappare. Subito non capì la gravità delle cose che mi stava dicendo, che odiasse le trasmissioni registrate, che l'intervistatore gli avesse tolto subito la parola. Erano frasi foriere di un suicidio mediatico. Soltanto parecchi mesi dopo, quando io e gli altri apoti ci arrendemmo all'evidenza che nessuno si sarebbe fatto più sentire, realizzai la portata del disastro che si era compiuto. Questo va. Abbiamo questo. Anche questa è la volta buona. Ah, beh, non mi è venuto mai, eh. I due, prima di lasciarsi, bevero qualcosa in un bar. Mauro si dimostrò anche in questa occasione molto generoso con il proprio psicopompo. Come del resto è lui stesso a testimoniare in questa lettera. Mi offrì da bere, come era uso fare quando ci incontravamo. E poi giocò il resto alle macchinette. Anche questa era un'inveterata abitudine mauriana. Questa occasione però fu particolarmente divertente per via di un piccolo conciliavolo che egli ebbe con un altro avventore, forse ludopatico, in merito ai diritti di prelazione su una macchinetta dalle fattezze molievri. Non mi piacciono gli uomini. Anche se non ho occhi, però voglio vedere delle femmine. Si conclude in questo modo la giornata del 25 settembre 2018. Altri documenti inediti provenienti dall'archivio mauriano, Fondo Mauriano per la Cooperazione e la Pace tra i Popoli, saranno presto pubblicati... Questa non ce la faccio. Saranno presto pubblicati su questo canale. Se il video ti è piaciuto, iscriviti e vattene a fanculo, come direbbe Mauro. Ciao.